La decisione era nell'aria e riguarda tutte le scuole del capologo siciliano ad eccezione di quelle dell'infanzia a partire da lunedì. Preso atto del mancato invio di notizie circa lo stato e le strutture ospedaliere in città e della tenuta del sistema sanitario complessivamente a livello regionale con possibile ricaduta gravissima sulle condizioni di sicurezza dei cittadini ascritti in una nota ufficiale Orlando, preso atto del considerevole aumento dei contagi in tutta la regione oltre che nella città di Palermo, ho deciso a malincuore di disporre a partire da lunedì prossimo la chiusura di tutte le scuole dell'obbligo della città. Il primo cittadino palermitano ha deciso di annunciarlo già oggi perché le famiglie, i dirigenti scolastici e gli insegnanti possano prepararsi per tempo e non trovarsi di fronte a un provvedimento dell'ultimo minuto. Si tratta di una decisione, dice il sindaco di Palermo, presa con sofferenza perché sono conscio che la didattica a distanza, per quanto possa essere svolta con professionalità e passione, non può garantire quel rapporto umano tra docenti e studenti e quel rapporto di socialità tra i giovani che sono parte integrante del processo di apprendimento. Ma proprio perché siamo di fronte a una situazione di emergenza sanitaria, devo assumermi la responsabilità di questo provvedimento, che mira a ridurre gli spostamenti in città e a limitare il rischio che i contagi continuino a salire. Il sindaco di Palermo fa sapere che si tratta comunque di un provvedimento temporaneo, perché da lunedì si farà un monitoraggio puntuale e preciso dell'andamento dei contagi e della situazione delle strutture ospitaliere, i cui dati saranno valutati perché la chiusura possa essere limitata al minimo indispensabile.